scusate mi si è spento il telefono perché mi si è scaricato all'improvviso non ho fatto caso riprendo il video da qua comunque la lasagna è pronta ci saranno 20 minuti di cottura eccola qua ecco qua la lasagna anche per oggi è tutto spero che vi piace la mia ricetta e vi auguro a tutti una buona domenica ciao